Dopo aver pulito i capparroni mettiamoli in una pentola Aggiungiamo un po' di acqua sul fondo Mettiamo sul fuoco e facciamo cucinare per 30 minuti Ricordate di chiudere la pentola con il coperchio Trascorsi 30 minuti spegnete il fuoco e lasciate raffreddare Una volta freddi togliamo le lumache dal guscio Ecco in questo modo Sciacquiamo Lasciamo scolare Per poi condire o cucinare a piacimento I capparroni o lumache di mare sono pronti Grazie a tutti Grazie a tutti